e non poteva mancare come da cinque anni a questa parte lo spettacolo cinquecentisti protagonisti qui al trentunesimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia guardiamo FIA 500 Club Italia guardiamo il video FIA 500 Club Italia guardiamo il video FIA 500 Club Italia guardiamo il video FIA 500 Club Italia guardiamo il video